Come ci si sente nell'occhio del ciclone? Chiaramente la scelta di fare o non fare il Capodanno è stata una scelta importante. Bisogna a un certo punto prendere una decisione, quindi la Giunta insieme al Sindaco ha deciso di portare avanti questa iniziativa per dare la possibilità di chi non poteva andare fuori e rimaneva a Teramo di festeggiare in piazza. Poi è chiaro che le presenze noi già ci aspettavamo che non erano quelle degli altri anni perché c'erano diversi gradi sotto lo zero, però abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa. Il discorso delle sponsorizzazioni, allora quando io ho parlato di soldi pubblici che non sono stati toccati soldi pubblici, intendevo che per la realizzazione della manifestazione non sono stati utilizzati fondi propri del Comune, quindi abbiamo fatto ricorso ad altri tipi di fondi. Quindi non è assolutamente vero che io ho preso i soldi nelle tasche dei cittadini teramani perché sono tutti fondi non propri dell'ente ma fondi esterni. In molti hanno chiesto le sue dimissioni, lei cosa risponde? Le polemiche, spesso strumentali, debbano un attimino lasciare spazio magari a delle proposte e dei suggerimenti utili e concreti, chiaramente ai quali io sono disposta ad aprirmi e ad ascoltare perché io faccio l'amministratore, quindi ben vengano le proposte utili e concreti, non soltanto le polemiche sterili. Quindi io sono aperta a tutti i suggerimenti, il mio ufficio è sempre aperto, io ricevo tutti. A dimettersi non ci pensa? Ma assolutamente no, non credo assolutamente che una serata di Capodanno possa essere il metro e il termometro dell'operato di un amministratore. La scelta dell'artista, a maggio-giugno quando è venuta a Teramo non è che avesse avuto tutto questo seguito, la sua esibizione, si poteva puntare su altro? Allora in quel momento non è stato semplice perché c'erano dei cantanti che magari potevano essere anche più appetibili, però avevano dei cachet altissimi e quindi scegliere un artista avendo anche pochi soldi in mano vi posso garantire che non è facile. Si è partiti da 18 mila euro, si è arrivati a 38 mila euro, circa 40 mila euro. Per il tiro mancino a Pescara si è speso forse qualcosina di meno. Ma quanto è costato questo concerto? Allora, lì nella delibera di giunta il costo è se non erro sopra ai 38 mila euro. bisogna tenere presente che ci sono dei costi fissi che sono stati sempre sostenuti in tutte le edizioni e che si sostengono in qualunque piazza che sono ad esempio gli allestimenti. Quest'anno, se non sbaglio, tra l'altro il costo è stato anche inferiore rispetto ad altre edizioni quindi insomma abbiamo cercato di risparmiare il più possibile chiaramente cercando di mettere insieme più fattori e un gioco anche di equilibri in qualche modo.